Raga, oggi vi porto gameplay di, diciamo, la carta del set che è uscita questo venerdì, Karim Abdujabbar, raga. Prima roba da dire di Karim Abdujabbar, secondo me, è molto meglio prendere rispetto alla versione cartoon, quello normale. Però soprattutto analizziamo bene con che badge va preso. Va preso, secondo me, con assolutamente cecchino off, perché comunque diciamo che non è molto costante il tiro da 3 punti, pur arrivando a 90 con generale in campo. Sicuramente è scarpettato, questo l'ho comprato con già la scarpetta, tiro da 3 punti 83, che con più 6 di D'Antoni arriva a 89, più uno di generale in campo arriva a 90. Ha scacciato in entrata a 95, controllo palla a 83, quindi scarpetta sicuramente tiro da 3 punti, controllo palla, è un centro, quindi velocità con la palla, accelerazione. Velocità non l'era aumentata perché comunque col più 6 arriva già a 97, quindi è una buona velocità per Karim, che è velocissima veramente, e poi rapidità laterale. A livello di badge abbiamo visto che c'ha 26 badge all of fame, c'aveva pure tiro decisivo, mi sembra, beh, off, l'ho pagato 680k, in difesa un god clamoroso. Release, c'ha praticamente la sua release, sempre gli ha messo il very quick, andiamo a provare un attimino in freestyle per farvi vedere un pochettino come si muove questo... Questo Karim Abdujabar e dopo andiamo a fare la nostra classica partita. Raga, vabbè, body type assurdo, cioè non c'è da dire nulla. Praticamente, il problema è che gli mancano le zone calde, però secondo me è una carta che... Va assolutamente presa, fondamental come driven style, sites di Kobe, quando va dentro le schiacciate sono di una potenza veramente devastante. Cioè, il rilascio è veramente, veramente molto molto bello, molto molto bello. Però io vi dicevo, raga, che sinceramente non è che l'ho provato tantissimo, ho fatto un paio di partite con Dante, ha fatto delle belle triple, sì, quello, sì. Però comunque in difesa è tanta tanta roba. Wingsman interessante. Bisogna rilasciare nel momento in cui spezza proprio il polso, raga. Quando spezza il polso si rilascia e praticamente fa sempre verde. Secondo me non è che seda tantissimo, però diciamo che questo check-in-off lo aiuta particolarmente, ecco. Karim Abdujabar. Ragazzi, come vedete, vedete, già qua fa una steal clamorosa, Karim Abdujabar. D-Rob, quick release e già meno missa. C'è già del lag, c'è già del lag, raga. Vabbè, fa niente. Ok, goody. Sì, ottimo. Qua tira. È full white e lui la mette. È rivedibile anche questo, raga. Karim Mete. Buono, defense. Ok, vieni qua. Primi due punti per Karim. Eccoli qua, raga. Poster su Leonard. Karim Abdujabar. Primi due per lui. Oddio, oddio la lag. Ottimo, goody. Aiuta, bro. Bravo. Oh, yes. E c'è della lag, raga. Anche dalla... Ok. Cedric. Big green, 19 marcato. Subito si vede la sgravo. Secondo me è top guarda del gioco. Cedric Maxir, raga. Cramorosa carta. Bell'aiuto. Eh, qua doveva tirare. Manco a difendere in questa maniera qua, zi. Uff. Buona, buona, buona. Ovviamente non si può togliere... Karim Mete. Big green di Karim. Difendo. Ma... Bismatch. Bravo Karim Mete. Bel blocco. Ma cosa fa? Ma che fa di roba, raga? Sì, attaccalo. No, no, no. Cil, 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 cil. Bravo, Luca. Big green. Luca Magic Johnson, attenzione. Mi ha bisogno pure dei suoi punti. Bravo di Rob. Blitz, 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 blitz. Ok, goodie. Arriva. No? Ok, bravo Luca. Ok. Bravo Karim, goodie. Che difensore, raga. Dentro? Bismatch ancora? Karim Mete. 13. Believe. Ma cos'è sta roba? Oh, mamma mia. Non è in balia. Stai in balia, raga. Bel blocco. Bravo. Vai lì dentro, zì. Luca? Big green di Luca. Bam, bang. Panchina, dai. A me lo riposano un pochettino, raga. Se no, non si può giocare così, se no. Bravo Karim. Bravo Karim. Dai, che è tua, zì. Bravo. Ok. Ok. Eh, niente, raga. Non ho saltato. L'avevamo perso. Mi sembra abbastanza in partita, comunque, raga, Karim. Ok. Adesso? And one lì, eh. 15. 15 primo tempo. Manco, manco male Karim, ed è. Vai mettendo dentro la panca, raga. Se no, non si può giocare. Patrizio. Vai Pietro, raga. Sì? Big green? Eccolo lì. Patrizio Ewing. E' San Patrizio. Titolari, dai. Ridatemi doni. Karim, ed è. Vieni qua, Karim. Sì, bello blocco. Lì in testa. Spara, dirò. Easy, easy, easy. Bismatch già. Ma manco approfittarne così, eh. E niente. Luca della regala. No? Ok. Lo sfida il tiro? Vai. Bravissimo, Karim. Mamma mia, raga. Che difensore che è. Sì? Taccalo. È tuo, bro. E niente, raga. Si capisce cosa ha combinato. Sì? Sì? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Bravo, Luca. Bravo, Di Rob. Eh, Yao e Cell. Yao uguale Cell. Ehi. Karim. Canestro. Tiro libero supplementare. Fallo di Yannis. Ridi, ridi, zi. Bang. È lì, 18. Madonna, Karimete. Raga, ma che animazione mi ha dato? Quella levetta in giù, eh. È mica male, Karimete. È lì, still bump. Bum, 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 bum. Fallo l'ultimo uomo? Eh, sì. Claire Pet. Partita di io dalla strada di Yao. Doccia, mi sa, per Yao Minghe. E via parzialino. Karim al Dojabar, 20. Nel chilling, time out. Non so più che pesci prendere questo Warhunters. Completamente a caso. A casaccio. Alla Tecaruso. Chi è il rannatore qua? Mike D'Antoni giovane, eh. Dai, zi. Vedi di tirarti assieme. Palla a Luca. Pick. Oh, yes. Oh, yes. Ancora. Si rigioca, zi. Eh, si rigioca. Bella palla, però. Sì? Ok. Eh, ma è già... È visto e rivisto sta roba qua, zi. Sì? Gudi. È gudi, zi. Box. Eh, sì. Ma cosa devi fare, zi? Non puoi fare niente. Ti locco. Zi, non fai niente, non fai conto di me. Dai, su. Guardalo di Rob. Vai, 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 vai. Tripla di Jabar. Ci è niente. Eh, Madonna. Madonna Jabar ancora. Jabar. Lì. Ma che è? Cosa? Facciamoci un paio. Due azioni fatte bene, oh. Bravo, bel blocco. Blocco ancora, bro. Lì. Bravo. Bismatch, mismatch, bro. Karim. Abdou Labar. Raga, 22. Praticamente un posto inmarcabile quando si switcha così. Mi approfitto. Ok? Bravo. Bravo. Sì? Ok, bro. Ok. Ok. C, 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 c. Ancora. Pic. Ok. Luca Doncic. Più 6. Ben chilling, raga. Un paio di azioni fatte bene. Aiuta, aiuta, aiuta. Ma che arriva? Ok. Bravo. Bravissimo. Bravo, Luca. Fallo. Buona, raga. Cielo, vieni qua, vieni qua. Cielo, ancora. Calma. Luca Magic Johnson dalla palla di Jabba. Fantastico, raga. Posso anche godere adesso. È stato bello, è stato. Statistica di gioco, Jabbar, 22 punti, 15 minuti, 3 rimbalzi, 2 assi, 4 palle recuperate, stoppate 0, palle perse 2, 1 su 2 da 3 punti, 8 su 10 dal campo, 5 su 5 da tiro libero. Raga, partita, diciamo, di un certo spessore del Karim Abdujabad. Oggi è domenica sera, vediamo un attimino se si è abbassato un pochettino coi prezzi. Comunque, raga, per me, miglior centro, big man giant, Karim Abdujabad. Il best hander in the game. 424, ricordate, raga, di prenderlo con i badge giusti. Andiamo a vedere, ad esempio, questo. C'è checking off, sì, c'è checking off. Scade fra 5 minuti, 423. Si è abbassato notevolmente, prestava un milione pure il cartonato. Bellissima l'artwork, tra l'altro. Peace.